Perchè sono, vedete, il numero uno, no, di un paese, come Iri, come tutti quelli che c'hanno stato, non preso una parte pure, non soppuccato nulla con vacca, canno soppucca, no, perchè è meglio andare. San More e Corleone. Ci guarda, cazzate, non ti preoccupo, non ti rispondo, non ti rispondo, non ti rispondo, non ti rispondo. Solo per l'amico ***, l'amico *** sono io, io per l'amico ***, ce ne sono, se l'amico ***, l'amico *** è un mio. Sto in auction, questo lo mi rinchanco, io non sono, se ne 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 sono. Se ne esce, sè, acho, hanno ch sintetizzato il dictionary ***. C'è gelbe, ai casi. Che succede a mañana e a tornareaniu pel rằngi? ma anche se stai adesso mi metterò a chiudere una macchina io non mi hanno detto 20 ore io ho cominciato a sbagliare la parola ci capo bene non ti amo il paese, non fai così vedi? va così non ti chiedi prima io pure non ho sceppato il pugnato, sai pur l'avresti l'artista da ti ha vinto, ha vinto, tutte cose è vinto tutte cose è vinto non ti capiscio, non ti capiscio non ti ho vinto ne ho vinto invece l'artista non ti capiscio che buono non ti capiscio perché te innazzo capire ah tu non estivi lì? no, io che il resto no, non ha mai mi caglì non ti mamma non ti mamma non ti mamma non ti mamma che ti mamma amole 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 ci sono ci scella qui Bambamone, stasera baciatemi, sono cristiana eh Bambamone, eccevo Scuso che è che sta qui su questa d***a La domanda Bambamone, come conosce Bambamone Bambamone, come conosce Bambamone Come conosce Bambamone, eh Cosa dice, se non ha qua con la l***a Scuso che ho iniziato Ma non è la prosa per il porto No no Potevano arrivare tipo 5,6, xD Secondo me o ciò, faccio che prima di essere diversa E non c'è questa foglia, e non c'è questa pianta, non è Secondo me il cavolo santo è non affatto Capito che c'è stato un nuovo incommo che ci ha spaventato. Io ero in quel momento, io ti dicevo, vengo l'avviso. E' un giusto, tu c'è che non era buono, dai. Eh, ma io ho potuto vedere un altro gioco, e poi c'è un'altra maniera. No, non c'è che non è più che c'è, però. Seguono un nuovetto, allora, perché dovessi andare a chiedere i miei?